Disagi ed emergenze in tutto il Salento. La Puglia è nella morsa del gelo. L'ondata di freddo siberiano ha colpito tutta l'Italia, da nord a sud, ma nel meridione, in particolare nel Salento, erano anni che non si vedeva così tanta neve. Diverse città si sono ritrovate completamente imbiancate. Da Gallipoli, Santa Cesarea, Otranto, Lecce, Maglie, Muro Leccese, Giordignano, Bitonto è stata fortemente coinvolta. Il Sindaco ha dato comunicazione di allerta per 24 ore. Al lavoro la protezione civile e le squadre di volontari per la situazione di emergenza. Si invita la popolazione ad usare prudenza e a non usare mezzi di locomozione se sprovvisti di attrezzatura da neve.